Sono Alessio Vannucci, sono un ingegnere responsabile di TETES-NL, ero qui a Smart Environment perché è un'unica qualità di rappresentante di QANES Professional Italia, che è il network di QANES Partner appartenente a QANES Italia, associazione italiana che riguarda il standard KPNX e ero qui per parlare appunto un po' per introdurre lo standard KPNX e chi è KPNX Italia e chi è KPNX in QANES e in particolare per parlare di l'applicazione della building automation, dell'home automation in ambito edifici residenziali e non residenziali, di come il QANES può essere uno strumento tecnico-tecnologico per realizzare i sistemi di home building automation e per parlare di quali sono le opportunità in ambito fiscale economico per supportare lavorazioni via, appunto, le strutturazioni, le qualificazioni di tantissime in cui vengono inseriti sistemi di home building automation in ambito residenziale e non residenziali. Sicuramente eventi come questo in cui appunto sono momenti di aggregazione a livello di formazione, le informazioni sono fondamentali sia per i professionisti che per i tecnici che poi realizzano effettivamente i valori.